Roberta Macario, amministratore delegato della società AIDEM SRL. La nostra società, che è una SRL però, società familiare, viene condotta da me e da mio fratello Martino Macario, all'interno una divisione specializzata per il manto di erba sintetica. Facciamo sia il settore sportivo che il settore decorativo. Allora, noi abbiamo conosciuto questa realtà grazie a una pubblicità che abbiamo fatto su una loro rivista e grazie a questa pubblicità siamo riusciti ad avere dei contatti sia nazionali che internazionali, per cui è nata in questo modo. Anche al San Di Rimini, grazie a loro, siamo riusciti ad avere uno stand che abbiamo allestito con la nostra erba sintetica, ma grazie alla loro collaborazione siamo riusciti anche ad avere contatti con i vari studi di architettura legati alle convention che hanno organizzato per gli architetti.